Eccoci insieme all'assessore Alvaro del comune di San Luca, un assessore attestante perché comunque la squadra del suo comune, il San Luca, ha battuto qua l'Africo 2-0 e ricordiamo però l'Africo ha colpito due traverse. Diciamo che io voglio ringraziare innanzitutto i ragazzi che hanno giocato una bella partita anche nonostante il tempo, non si può giocare a 40 gradi e addirittura tutto il secondo tempo abbiamo giocato in 10. Io voglio raccomandare, lancio un messaggio alla Lega Calcio che queste partite non si possono giocare alle 4 del pomeriggio. In effetti scusi che lo interrompo, anche ieri a Giulio San Marina noi ci siamo stati, addirittura la ragazza ha avuto un colpo di sole e è stato male, quindi sollecitiamo la Lega anche noi come giornale, come giornalisti affinché veramente non si torturino tra virgolette, anche perché poi ricordiamoci si tratta di calcio dilettantistico, ma anche per le persone perché poi più fa freddo e più le persone vengono allo Stato. Ma diciamo che sicuramente questo messaggio lanciato da me, credo che tutte le società ormai sono intenzionate a poter dire anche la sua per quanto riguarda il problema degli orari. Comunque io voglio sottolineare, voglio ancora elogiare i miei ragazzi e voglio ringraziare la società che mi ha dato questa possibilità di fare questa squadra e elogio tutti i ragazzi, il mister e compreso per questa bellissima vittoria. Chiaramente ancora il campionato è lungo, stiamo preparando la squadra, ancora una nostra squadra. Per il campionato quali sono le velleità tra virgolette della San Luca? Noi abbiamo allestito una squadra modesta di giovani volontariosi che hanno la voglia di emergersi in questo campionato, cercheremo sicuramente di fare un campionato tranquillo alla nostra portata, poi quello che viene viene diciamo, però il nostro obiettivo è sicuramente salvarci e poi vediamo quello che succede. Poco fa ha sentito Don Pino Strangio, sappiamo essere il presidente di questa squadra, cosa le ha detto e se era contento poi per la vittoria? Don Pino anche se non è presente, moralmente è sempre presente, chiaramente Don Pino mi ha chiamato due o tre volte durante l'arco della partita perché era emozionato per le sordi in promozione, sicuramente gli abbiamo dedicato anche la vittoria a lui che ci teneva attentissimo. Come tutti gli sportivi sanno, San Luca è un pezzo di storia del calcio dell'elettantistico calabrese e sappiamo anche che la società stia tentando di riportarlo in auge. Diciamo che piano piano, un passo alla volta, io sono convinto, sicuro, che con un po' di organizzazioni in più, con un paio di inerti a livello dirigenziale, riusciamo a portare questa squadra dove è di competenze. Io sono convinto che la capacità e la forza ce l'abbiamo, i ragazzi hanno risposto sul campo nonostante in dieci uomini, spero che nell'arco dell'inizio del campionato qualche altro nuovo acquisto sicuramente arriverà e andiamo avanti così. Sbancare il rettangolo di Africa non è facile per nessuno? Beh, diciamo l'Africa bisogna ringraziare, bisogna vedere un attimino perché l'Africa è una bella squadra, una squadra organizzata su tutte le parti, l'Africa sicuramente è una delle squadre pretendenti a vincere il campionato se non è addirittura per i play-off. Io mi auguro, gli auguro con tutto il cuore di fare un salto di categoria perché da tanti anni che è mirta in promozione e sicuramente questa società, questa organica a livello di giocatori credo che dopo tanti anni è giusto che approdino il campionato di eccellenza perché lo merita veramente. Una partita tranquilla, quindi nessun condizionamento ambientale? Ma sicuramente tra noi e l'Africa ormai c'è una grande amicizia tra tutte e due, società sportive, ormai ci conosciamo da una vita, sono convinto che ormai diciamo quello che è successo è una cosa passata, noi sicuramente sia il San Luca sia l'Africa ormai diciamo a livello ambientale, a livello di organizzazione non hanno a invidiare nessuna squadra locale. San Luca che si sta attrezzando, manca qualcosina ancora per l'agibilità perfetta del campo? Beh diciamo che il sindaco si sta adoperando a 360 gradi anche con il sottoscritto, stiamo lavorando su tutti i fronti per poter dare la disponibilità all'inizio del campionato, cercheremo di essere pronti per quanto riguarda la struttura sportiva, chiaramente c'è qualche piccolo problemino però in questa settimana cercheremo di risolverlo al più presto possibile perché i ragazzi lo meritano veramente. Manca qualcosina questo 4-4-2 classico? Beh diciamo qualche, siamo in cerca di qualche pedino importante, qualche fuoricuota e finisce lì perché bene o male la rossa ce l'abbiamo quasi sicuro. Poi si punterà anche sul settore giovanile? Beh chiaramente abbiamo fatto un programma per quanto riguarda il settore giovanile con la scuola calcio, c'è l'Andre 18, allievi regionali, quest'anno cercheremo di fare anche gli allievi regionali e da un po' di anni che non facciamo il settore giovanile, quest'anno abbiamo deciso con il presidente Don Pino Strangio e con i responsabili di fare questo settore giovanile perché ci teniamo tantissimo perché la forza della squadra è il settore giovanile. Domenico Alvaro, assessore allo sport. Grazie a voi. Grazie.